Sto facendo il riso afghano, devo imparare, devo cucinare prima, devo tagliare le carotte, devo buttare sul pinto dietro di voglio. A presto. A presto. A presto. A presto. buttiamo carne e poi giriamo un po' lasciamo circa 15 minuti buono lasciamo buono 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 copriamo lasciamo per 30 minuti buono 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 Grazie.